e allora siamo in questa parentesi di spettacolo ovviamente vorrei avere qui su questo palcoscenico accanto a me un caparettista un comico un attore italiano il grande Mario Zamma facciamo un grosso applauso grazie e annuncio subito dopo di te buonasera a tutti invece un noto stilista non che opinionista non che un personaggio veramente eccezionale Guillermo Mariotto eccolo qui con noi grazie buonasera allora il passaggio da Mario a Mariotto è stato facilissimo io io sono davvero felice questa sera perché io sono l'esempio vivente di chi può cambiare idea nella vita e l'ho fatto perché per molti anni naturalmente io sono conosciuto conosciutissimo perché sono uno dei comici storici del bagaglino e naturalmente per tantissimi anni ho fatto parte di questa pregevolissima compagnia ma naturalmente per chi scriveva da quella parte eravamo dall'altra parte ma io credo che invece in tutta onestà un comico naturalmente un giullare come me quando va a sbeffeggiare un diciamo chi si contrappone dall'altra parte debba essere una persona che gli arrivi in qualche modo una notizia che sia vera e per tantissimo anni io ho avuto una percezione sbagliata di Virginia Raggi perché siccome noi abbiamo una stampa faziosa una stampa naturalmente una stampa pilotata e al servizio dei potenti naturalmente a me che facevo questo mestiere arrivava qualcosa di traviato e naturalmente facevo delle battute sbagliate quindi faccio faccio a mente chiedo scusa umilmente questa sera avendo conosciuto nell'ultimo mese Virginia mi sono letteralmente innamorato si fa naturalmente nel vero senso della parola della sua del suo modo di essere un politico puro e il senso della libertà che mi è arrivato attraverso la sua gentilezza la sua compattezza la sua energia la sua passione naturalmente per chi fa questo meraviglioso mestiere ha fatto sì che io decidessi di espormi in prima persona e di darle una mano pubblicamente perché lo sento veramente e soprattutto perché Virginia rappresenta per me una grande garanzia perché oggi viviamo in un mondo globalizzato lo vediamo ogni giorno sempre di più ormai i globalizzamostri stanno invadendo e hanno rotto gli argi neanche qui in Italia i governi pupazzo ormai sono vittima di queste situazioni avere un un sindaco libero in questo momento che possa gestire con grande legalità e onore onorabilità questo per me è un esempio enorme di speranza e quindi cerco di convincere naturalmente gli indecisi che ultimamente sono tanti quindi faccio nel mio piccolo dei piccoli incontri anche oggi pomeriggio ho incontrato dei vecchietti sotto casa mia che erano molto disorientati come si dice a Roma scoglionati da da un sistema che ormai vede sempre le cose che vanno in un certo modo io ho cercato di far capire che invece bisogna ancora credere in questa persona per bene che ha fatto tanto fino adesso da cinque anni e deve continuare a poterlo fare perché interrompere in questo momento sarebbe veramente un'ingiustizia ho cercato di far capire che non esiste un fatto di politica né di destra né di sinistra oggi la differenza che c'è fra la destra e la sinistra è così impercettibile e così impossibile da capire che se uno dice cornuto a Renzi si incazza la nonna dei Berlusconi quindi io dico solo viva Virginia Raggi di rafforzare chi è intorno a Virginia Raggi e di pararle anche il sedere perché come si dice a Roma se la vita è una tempesta prenderli in culo è un lampo io voto Virginia Raggi Romani buonasera buonasera è veramente emozionante stare qui davanti al Tempio di Vesta di Ercole sare proprio a Roma io sono qui da libero cittadino un cittadino romano che 40 anni fa è diventato proprio un cittadino uno qualsiasi non sono di correnti politiche non attendo a questo sono un uomo di lavoro di questa città faccio un lavoro complicatissimo l'alta moda è veramente una cosa cavillosa, noiosa, difficile, complicata è sempre in ritardo, bisogna lavorare di notte, di giorno e tutto questo è stato possibile con le donne le donne romane io sono stato accolto da donne romane le donne romane sono dei personaggi veramente speciali mi hanno cresciuto mi hanno insegnato come si lavora quanto si deve lavorare per portare avanti una cosa impeccabile per essere puntuali e arrivare alla fine come si deve vi faccio questo paragone perché in questi ultimi anni ho visto un contratto casualmente, poi è stato sempre tutto molto casuale Virginia Raggi, il comune di Roma e ho visto tante donne quelle stesse donne romane che io riconosco come donne di coraggio che sanno lavorare e che hanno questa particolarità come avete visto poco fa Virginia non guardano in faccia nessuno, vanno avanti come un treno sanno che devono portare a casa il risultato e lo devono portare e basta e così si ragiona nel lavoro e quindi io oggi sono qui per sostenere le donne le donne romane in qualità di sindaca Virginia Raggi si è dimostrata una persona eccellente abbiamo in comune anche una devozione per la Madonna di Noantri che è qualcosa che è veramente speciale per chi è di Roma lo sa ma soprattutto per il lavoro quindi ho visto lavorare e come in alta moda quando arrivano le nuove maestranze e imparano l'ultima cosa che si può fare è lasciarle andare via le maestranze quando hanno imparato si tengono strette perché è così che si sale di livello l'unico modo per salire di livello è mantenere in vita le maestranze del lavoro perché quello che loro fanno è lavorare notte e giorno li ho visti con i miei occhi lavorare notte e giorno e affrontare situazioni difficili questa è una città terrificantemente difficile però credetemi io che viaggio in tutto il mondo portando proprio l'alta moda romana quando io dico che vengo da qua vedo proprio la cintilla dell'invidia in tutto il mondo quando ritorno a Roma e sento la gente che si lamenta dico ma perché me lo sentate a fare siete in un posto meraviglioso in una delle città più belle del mondo invidiate da tutti io faccio per terra questo posto che mi ha dato tanto e quindi io chiedo solo alle donne romane di fare fronte comune dipende dalle donne secondo me perché le donne portano avanti la qualunque quindi sostenete un'altra donna sostenetevi fra di voi fate fronte comune e prendetevi la città il suo nome è Roma bacio vi voglio bene sempre romani amici concittadini mi trovo esattamente a via della Giuliana tra piazzale Claudio e il Vaticano e guardate i nostri amici concittadini romani quelli che riescono quello che riescono a buttare per strada qualcosa di straordinario io mi trovo bene in questo paese un po' naif allora la domanda sorge spontanea ma sarà forse colpa del sindaco oppure dell'anima del meglio degli straportaci vostri che buttate sta cosa al centro di Roma non vi vergognate no? uno chiama l'ama viene a casa le porta via tutto invece no via tutto per terra vai che te frega ah Nerone dove sei ti aspettiamo la tanica continuate con l'applauso continuate con l'applauso continuate con l'applauso anche lì anche il sorcastro e Polluce anche Venere anche Minerva che non so i cerini scusatemi grazie fatene salutare i ricchi quelli dall'attico manca scenne mortiacci vostri vabbè comunque non si dicono le parolacce perché poi mamma ci rimane male allora io ho cinque minuti non di più intanto mi presento perché è giusto che sia quando sei ospite di persone e uno si presenta mi chiamo Alessandro Di Carlo nato e cresciuto a via del Quadraretto l'ultima maternità via del Quadraretto angolo via del Quadraro via Cartagine via Serenunte 55 anni fa Roma e le periferie e il centro lo conosco millimetro per millimetro quando sforo tu mi dici oh Moro stringi Moro Moro una volta e quindi per me è un'emozione fortissima stare qua ora io non penso che tocca essere destra di sinistra di centro del movimento di sotto di sopra io non rispondo a nessuno se no a mia madre e a me stesso e al Padre Eterno perché so credente ma questa è un'opinione mia ci mancherebbe altro no ci mancherebbe altro ma ci ho avuto manco mai ad essere da Roma pensate quindi figurate quanto posso essere libero perché non mi piace capito c'è c'ho soltanto una cosa in testa avete visto questo video che ha girato penso l'Unione Europea anzi faccio un piccolo inciso sull'Unione Europea voi mi dovete da dire visto che parlate l'inglese fluente lo spagnolo fluente il francese fluente siete laureati la Roma quella bene quella che hanno la consecucio temporum soggetto verbo io non so se soggetto verbo è il complemento io sento vivo ascolto la città la vivo tutti gli giorni a metro l'autobus a piedi in mezzo alla gente mi devi da dire mi devi da dire io dico no ma a parole mie te lo dico subito a parole mie non te lo posso dire perché se non vengono i carabinieri cercherò cercherò di decodificare allora una cosa importante allora se se la bellezza sarverà il mondo la maleducazione sicuramente lo distruggerà allora non è un discorso allora iniziate iniziate a essere sindaci di voi stessi e la dovete smettere di chiedere a Roma dovete iniziare voi a fare qualcosa per Roma basta acchiappare 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 damo qualcosetta parafrasando John Fitzgerald Kennedy e e poi vi voglio salutare e questa è una cosa credo adesso ve la dico io tre anni fa quattro anni fa che poi con Virginia ci siamo conosciuti così io ho fatto sto video per Roma per dico ma che ma qui è questa maleducazione sto schifo no uno si mangia un pezzo di pizza alla carta che te ce hanno buttato dentro il cassonetto io non parlo non parlo dei grandi sistemi e il clima che poi mi fa ridere la terra c'ha quattro miliardi e mezzo noi forse ci abbiamo 250 mila anni il sapiens se lo mette contro la terra secondo te ma noi siamo scureggie dentro un universo ecco esattamente siamo peti in un uragano ma devi fare la terra è la gente che è inchiappettata no la terra la terra si rimette a posto per i cazzi suoi quando noi ce ne saremo andati da molto 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 tempo il pianeta sarà qua sta pallina fantastica verde blu che galleggia ora quattro anni fa anzi quindici anni fa ho avuto la fortuna l'onore il piacere di lavorare gomito a gomito col più grande attore di tutti i tempi del teatro romano il signor Luigi Proietti e in questa e questo grazie ancora più forte anche a voi e a quelli del lattico sto a parlare di Pelè e Maradona messi insieme ora in questo nuovo ristorante chiaramente lo posso dire però abbiamo e ho incontrato il maestro Gigi io sempre con molta molta umiltà lui mi vede mi chiama oh belli cavetti via qua io avvicino maestro questo maestro Gigi mette la sede e mi dice una cosa meravigliosa mi dice Alessandro ma che voi siete giovani giovani in Italia a 60 anni ancora sei giovane voi che sei giovane ma perché non fate una cosa che non ci ha mai pensato nessuno ne fa prendete tutti i teatri cinema chiusi del comune di Roma proprietà del comune di Roma in tutte le periferie in tutto il centro c'è una valanga ma voi girate per Roma vedete ogni tanto un cinema chiuso il teatro chiuso da vent'anni da venticinque anni chiuso lo riaprite e ci va dei laboratori d'arte ci fai teatro ci fai cinema ci fai danza e ci fai musica abbiamo parlato tanto mafia ma tu attraverso l'arte ma pensa che il lavoro puoi fare solo il sottostrato delle persone il sottostrato pensa che cosa puoi fare allora io da sconosciuto da uomo libero sono andato da Virginia e il primo sindaco che mi ha ascoltato c'avevo i capelli Rutelli manco voi ricordate il po' Rutelli Vettroni Alemanno volevo annascere ma già se erano bevuto Marino Porello con il zaino che abbia uno ficcato sotto e sì perché state attenti con sti cazzi di monopattini perché voi siete civili ma quello col SUV sono cazzi vostri stateci attenti e quindi ti ho detto a Virginia perché non facciamo il par il polo artistico romano e prendiamo tutto il talento e ce n'è di talento tantissimo io nel 1987 sono dovuto andare a Milano a Zelig allora un polo artistico a Milano ce l'hanno a Napoli ce l'hanno a Bologna ce l'hanno a Firenze ce l'hanno a Catania ce l'hanno a Palermo ce l'hanno noi a Roma no e io penso che con Virginia con questo scricciolo di donna che gli sono rimaste soltanto le orecchie per quanto sangue ha buttato tutta a corpa sua tutta a corpa sua il pianeta la cambia è a corpa della raggi lì di chi con tua moglie è a corpa della raggi la Roma perde è a corpa della raggi ora no ti ringrazio un suo armello sono uno dei tanti che ha trovato l'opportunità di parlare con una donna libera con lo scriccioletto nostro e raccontagli questa cosa e io penso che questa cosa rimarrà dentro il solco educativo l'arte l'arte è aggregazione capite allora prima di arrivare se tu gli dai una possibilità a un ragazzo prima di arrivare alla piazza del spaccio lo levi attraverso l'arte attraverso l'arte guardatevi intorno giratevi giratevi guardate là ma guardatevi attraverso la bellezza quello che puoi fare e quindi io penso che qualcosa si farà sicuramente se riusciamo a portare a casa un grosso risultato cioè Virginia di nuovo sindaco dai è forte dai è forte e manco ho detto pochissime parolacce affanculo grazie